Noto, venditori ambulanti in centro storico, un parcheggiatore abusivo e violazione stradale, 26.000 euro di sanzioni. Agente del commissariato di Noto hanno eseguito un servizio di controllo del territorio, identificando 60 persone e controllando 40 veicoli, contestando 26 violazioni al codice della strada. Durante i controlli, gli agenti hanno sanzionato un giovane di 31 anni, sorpreso alle 21 circa, a esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo in largo Pantheon. Infine, due venditori ambulanti sono state sanzionate nel centro storico alla merce posta sotto sequestro.